Vediamo qua, timer messo. Io sono pronta, e tu? Anch'io, prontissima. Mi senti bene perché sono a metto gli auricolari? Io ti sento bene, sinceramente non c'è neanche rumore di sottofondo, quindi penso che possiamo lasciare così. Allora, dammi qualche secondo e ci vediamo. Allora, Letizia, sei già arrivata qui davanti a me, quindi io direi proprio di esserci. Creiamo le nostre sfere energetiche di protezione tutti intorno a noi, affinché niente e nessuno possa interferire con noi in questa sessione. Quindi una bellissima sfera di protezione è tutto intorno a te e una bellissima sfera di protezione è tutto intorno a me. Allora, senti cara, la tua anima mi arriva così. Fondamentalmente sta guardando in alto e ci sono delle immagini che corrono a fianco a lei, quindi tutto intorno a lei, che cambiano come dei piccoli frame di immagini, no? Una diversa dall'altra. Ma lei continua a stare, a guardare in alto, quindi essere distratta da tutto ciò che le capita intorno a lei. Quindi diciamo che questa raffigurazione, questa rappresentazione, anche nell'emotività, mi sta trasmettendo un distacco da quello che è il quotidiano in questa Matrix, di questa esistenza. Come se tu fondamentalmente, guardando in alto, è come se stessi aspettando qualche cosa di più, un cambiamento, un qualche cosa che possa rimetterti nella visione, no, diciamo, in orizzontale e mandarti avanti. Un periodo di stagnazione, quindi, tu stai vivendo. Com'è? È reale questa immagine? È bizzarra? Sì, sì. No, 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 è bellissima. Sì, sì. Un sacco di cose che girano intorno e io, come se non riuscissi a prenderle proprio. Ecco, fondamentalmente perché in questo momento tu guardando altrove, chiamiamolo così, né alto né in basso, altrove, è come se non fossi agganciata, ancorata, insomma, in quello che sta accadendo intorno a te. Quindi mettiamoci in attenzione e vediamo con le tue domande dove l'anima ci porta per rimetterci in un ciclo intanto di movimento e non di stagnazione, uscire fuori da tutto questo fermo che c'è intorno a te. Va bene? Ok. Ma infatti posso partire con le domande? Parto con le domande? Sì. Ok. Che cosa mi impedisce di aver chiaro cosa fare nel mio cammino lavorativo, sia per la mia indipendenza economica, ma anche nella indipendenza anche affettiva, diciamo? Questa è la prima. Guarda, sì, fondamentalmente tu, quindi questa immagine che è arrivata di tutto e che tu sei distratta e non ti fa senti, abbracci molte cose. Tu quando pensi e guardi, per esempio, queste figure che ti girano intorno, quindi le relazioni, il lavoro, il percorso di vita che tu fai per la tua crescita personale, è come se volessi tutto. Quindi abbracci un po' tutte le informazioni che ti arrivano nel contesto della sperimentazione di esperienze che ti capitano e quindi abbracciando tutto c'è caos, no? È come se non riuscissi a focalizzare con lucidità ciò che in realtà ti piace. Da cosa scaturisce questo? Da una, non è bassa autostima perché tu ti conosci, però è in realtà una poca identificazione in te. Chiamiamola autostima, ma non perché tu non credi in te stesso, in ciò che fai, ma è perché in questo percorso di crescita che tu hai avuto in questa reincarnazione, Letizia, sei andata sempre avanti, quindi correndo avanti nella ricerca di sempre di più di conoscenza, senza costruirti nel dettaglio. Sai come quando tu dici, guarda, chiama quell'uomo che lui sa fare tutto, sa fare il muratore, l'elettricista, cambia il parchè, insomma tutto, però fondamentalmente un tutto fare così non è specifico, specializzato in nulla. Tu sei un po' come quella, sai fare tutto perché ti piace, sei entusiasta del saper fare tutto, ma nel dettaglio non hai curato un solo, ecco, un particolare che quindi potrebbe essere nella tua figura femminile la conoscenza di ciò che ti piace rispetto al compagno che incontri, no? Quindi ti va bene tutto o non ti va bene niente, non c'è un contorno dettagliato del compagno che ti può piacere e automaticamente si riflette anche nella tua identificazione. E così nel lavoro ti piace tutto, sai che si può fare tutto con la tua conoscenza, però fondamentalmente non hai ancora avuto, non sei aperta, ecco, non hai avuto la costanza di mantenere aperto per identificarti nel dettaglio. Lo senti reale questa manifestazione? Sì, sì. Perché poi mi parla, mi parla comunque la tua anima, soprattutto negli ultimi anni, perché ti senti così un po' di abbracciare tutto? E adesso ho proprio anche la voglia, il desiderio di comprendere quale direzione prendere, perché questa cosa me ne sono accorta anch'io che è molto generico, infatti poi io nelle cose non vado mai in fondo, in profondità, tra me adesso di recente, in un percorso che sto facendo, e per cui sì, perché sono proprio un po' alla ricerca di quella è la mia strada, appunto. Cioè ho sperimentato tanto che mi butto lì, so che lì riuscirò, e ecco questo che mi manca, che mi manca. Perché poi senti io di essere molto poliedrica. Ecco, vedi, ecco, io tante volte è camaleontica, no? Uso questo termine. In realtà questa tua è una dote, non è che è un difetto. Fondamentalmente se, dici, quale direzione prendere? La domanda che faresti alla tua anima è proprio questa, no? La direzione che tu dovresti prendere, è una dote essere camaleontica come lo sei tu, Letizia, non è un difetto. Diciamo che potresti prendere qualsiasi, di cinque strade ne devi scegliere una, anche se tu la metti nei foglietti e poi le prendi su da un barattolo. L'importante è che arrivi fino alla fine, cioè con la costanza. Che parte è quella che mi manca, mi è sempre un po' mancata, la costanza e la volontà, poi di proseguire. Perché poi le coce all'inizio, poi le porta anche a termine. Ecco, fondamentalmente però la costanza e la volontà che sono empatiche, quindi emozionali, animiche, no? Come sentimento. Lasciamo perdere la parte razionale. Dobbiamo farle tirare, chiamiamole, per una permanenza lunga nella vita di quello che è il tuo essere, anche con le gratificazioni. La gratificazione può essere il successo in quello che fai, quindi nelle guarigioni che porti, la gratificazione è nel sentirti amata dal compagno, la gratificazione è il denaro che tu hai per la tua indipendenza. quindi, costanza, qual era quell'altra che già me lo avevo? Costanza, volontà e gratificazione, cioè il punto finale. Anche che tu dici, no, io li porto alla fine, va bene, li porti alla fine, però poi ci deve essere un proseguo, che è la gratificazione di tutto ciò che fai. Solamente recuperare, cioè mettendo in piedi in un'unica essenza, volontà, costanza e gratificazione, allora tu sentirai di essere nel momento giusto, al posto giusto, in qualsiasi scelta che fai. Sai come un po' da portare dietro questo argomento, no, che dici ma quale casa scelgo io che mi piace? Casa è dove sei tu, no? Quindi è un po' quello. Va bene, cara. Mettiamocela dentro, mettiamola proprio dentro, questa costanza, questa volontà, questa lucidità poi che ti porterà ad avere nelle tue scelte e l'obiettivo finale e comunque finale e continuo e che dovrà esistere per sempre, che quella luce, no, che ti dà luminosità per il sentiero che tu prendi è la gratificazione. Quindi stai con un compagno, ti gratifica, no, ti gratifica in tutto quello che abbiamo detto, amore, no, indipendenza e autostima. È così nell'amore, è così nel lavoro e allora vedrai che verrai a capo di ciò che tu sentirai che ti appartiene. Perfetto. Andiamo avanti. Ok, poi, perfetto. Adesso non so se rientra sempre. Cosa può funzionare per me e cosa mi serve perché io funziono a livello economico? Per cui mi sa che è la gratitudine. La gratificazione, sì. La gratificazione. Perché è vero, tu so che, di cosa ti occupi? Allora, faccio la naturopata, poi in realtà si sta trasformando molto in coach. Cioè è una cosa che io ho sempre fatto anche in altri settori al di fuori del benessere. E poi la grande cosa che sta uscendo è la parte molto artistica che io ho sempre molto taciuto a me stessa. è quella che mi sta dando tanto nel senso dipingere. Dipingere è la prima cosa. Quando c'ho qualcosa io dipingo. Però anche lì, per esempio, molto bello, molto bello, però poi alla fine non c'è un ritorno, no? E l'altra cosa è che vedo, che comunque mi vengono in mente, no? Queste immagini che tu vedi, la scrittura di un libro, che molte persone mi dicono. E io sento che potrebbe essere un'altra cosa, quella. Il libro comunque derivante dalla canalizzazione. Però poi io ci metto il mio mentale pazzesco, i miei blocchi proprio, non lo so, ho avuto la paura di sbagliare, la paura di non fare la cosa giusta, cioè bla 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 bla, la paura di non riuscire poi magari ad avere successo, proprio anche a livello economico, perché adesso, come è, dopo che mi sono separata, diciamo che la parte economica è diventata abbastanza critica, ecco, diciamo così. Per cui ecco, c'è tutte queste cose che in parte mi danno molto piacere, però dall'altra parte però non vedo riscontro. Però guarda, Letizia, mi hai elencato tre caratteristiche della tua, delle tue capacità, no? Che comunque la canalizzazione è una che, mettiamo al numero uno, la naturopatia, quindi che tu trasformi e fai delle essenze a beneficio delle persone, e la pittura, tolta un po' la canalizzazione, però sono tutte cose che ti portano ad essere un po' in solitudine, no? Un po' chiusa nel tuo tempio, perché quando fai quei manicaretti di erbe, sei comunque lì a farlo e sei da sola, non mi dire poi la pittura, perché comunque entri in una condizione di isolamento, in connessione con l'universo, no? Nel momento in cui ti lasci andare, entri proprio in un'altra dimensione. e la canalizzazione è che comunque tu sei lì. Tu invece fondamentalmente, da come si sta manifestando la tua anima, hai bisogno di correlazione, hai bisogno di gente intorno a te, hai bisogno di stare a contatto con, bello e il brutto delle persone, comunque se sono brutte, di pianificare e ammorbidire, se sono belle, di gioire. Quindi fondamentalmente, qual è il tuo percorso? è un percorso anche evolutivo e comunque lavorativo, perché tanto viviamo nella metrica dove c'è bisogno di denaro, quindi non è ipocrisia parlare, cioè ipocrisia sarebbe non farne conto di questo denaro, invece di stare. Siamo qui per questo. Ecco, fondamentalmente. Quindi, cosa accade? La scelta per un tuo percorso dove ti senti come a casa, dove ti senti di appartenenza, è dove tu sei a contatto con la gente. Nonostante tutto, anche se la canalizzazione ti potrebbe portare a scrivere un libro che anche lì comunque è isolamento e lo potrai fare, la canalizzazione tra le tue capacità, le tue doti, le tue qualità, i tuoi piaceri è l'unica che ti potrebbe portare a confrontarti con le persone, cioè in diretto contatto con il beneficio. Perché canalizzare potresti canalizzare anche anime defunte, no? Che sono passate oltre... Certo. E quindi saresti di fronte a una persona che ti chiede. Oppure la canalizzazione è quasi come una lettura del futuro. Potresti evitare le carte e avere di fronte a te una persona che ti contatta. Hai bisogno del rapporto umano. Sì, sì. Sì, sì, tanti. Infatti fino a 33 anni lavoravo per un'azienda di telecomunicazioni televisive qua in Italia e giravo tantissimo, mi piaceva. Poi la vita mi ha portato diciamo a dover lasciare quello che infatti me ne sono molto pentita e però poi dopo non sono più riuscita a rimettermi proprio in quel... perché poi ho sempre lavorato a contatto con la gente, sempre. Sì, sì. Quindi da quando ho 19 anni e poi sempre viaggiando perché l'altra cosa è per me viaggiare che è fondamentale in segno a stare con le persone. Quindi visto che sei così diciamo dinamica, così socievole, così empatica e porti anche... potresti rimetterti comunque se lo vorrai ancora per quanto tu potrai fino a che sei giovane magari metterti in questi contesti di viaggio, di club dove c'è queste animazioni insomma comunque essere in mezzo alla gente. tutto ciò che ti porta nella chiusura tu dici io pitturo e poi non mi porta una cosa economica perché non è il tuo percorso. Poi che tu potrai pitturare e dipingere adesso io perdono il mio termine magari nel momento in cui ti prendi il tuo tempo un'oretta libera e poi potresti anche metterli in vendita ma dove tu sei a contatto con la gente avrai un beneficio anche economico e una ristrutturazione molto importante della tua autostima perché adesso con questa conoscenza e consapevolezza che hai rimetterti in gioco in confronto con le altre persone inizierai nel dettaglio delineando tutti i contorni a crearti la tua identità. Ok. Questo è molto importante. Andiamo avanti. Ok. L'altra cosa quali sono i blocchi per la vendita della mia casa che avevo che ho perché la casa è ancora con il mio ex marito che ha due anni che è in vendita e non è mai venuto nessuno a vederla. Allora guarda tutti e due siete un po' in confronto a questi comunque denari che dovrebbero entrare non la venduta quindi un po' per te un po' per lui di fronte a questi denari che dovranno arrivarci siete e mi venite tutti e due come se un grafico che fa così alto basso non siete ancora pronti per quanto comunque necessitate sia te che lui di questi denari non siete ancora pronti ad averli quindi fondamentalmente ci vuole poco perché state state raggiungendo quella calma quella pace quella tranquillità di tenerli diciamo come risparmi e non come faccio quello faccio quell'altro anche tuo marito ed è tuo ex è un po' in questo disagio energetico quindi non è non si sono maturati ancora i vostri stati d'animo giusti per ricevere questi denari cosa ci vorrebbe per raggiungere questo stato appunto intanto vorrei sapere se senti affine a questa informazione così particolare voi quando si compra da giovane queste case si hanno dei mutui nel momento in cui la venderete dovrete ripagare la banca una parte considero che è una villa una parte sì però rispetto al totale qualcosa si qualcosa si si può ci rimane calcola un quarto del valore totale più o meno sarà un quarto un quinto sì sì non è eccessivo ecco però è come se non siete tu sei un pochino più fuori posto della tua indipendenza lui è un pochino più indipendente quindi magari sarebbe un po' più a risparmio questi soldini per te devono essere e devono arrivare nel momento in cui tu li tieni e li terrai come un bossoletto e invece adesso ancora tu quindi cosa serve serve che ti trovi in un momento dove tu questi soldi non ci pensi più no della casa quindi sai che li metterai da una parte come un bossoletto e allora magicamente questa casa verrà venduta lui sta lavorando lui sì 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 lui è lavora in proprio è una è un meccanico di auto egomista da quasi trent'anni lui quindi lui è molto più grande di me ha undici anni più di me lui ha lui ha cinquanta quattro anni cinquattacinque quest'anno ecco ad agosto quindi poco perché tu da qui a poco prima della fine dell'anno riuscirai a trovare la tua centratura quindi la tua armonia il tuo lavoro e mantenerti con il tuo lavoro a quel punto lì allora venderai la casa ecco perché l'altra perché questa informazione era già giunta infatti io so già quando recupero questo denaro come investirli cioè proprio devono essere come investimento non so come dire non mi devono servire per il quotidiano per mantenermi no questo lo sapevo cioè ho l'idea ben chiara infatti dico come mai non si è ancora mosso non si è ancora mosso però la prima domanda che tu mi hai fatto hai fatto all'anima è proprio quale sentiero devo prendere per raggiungere una indipendenza perché sto vivendo comunque una criticità economica fondamentalmente è come se l'universo volesse dirti che adesso tu ce la devi fare da sola no a rimetterti in sesto in piedi e raggiungere la tua indipendenza quello che arriverà dalla villa sarà un valore aggiunto no una sicurezza in più se tu progetti qualche cosa come l'investimento perché il progetto di investimento è relazionato al lavoro ma fino a che tu non sai bene qual è il lavoro che porterai con questa costanza fino alla fine comunque del suo ciclo chiamiamolo così questi non arriveranno perché allora tu potresti fare un inversimento sbagliato l'universo ti ascolta tu sei in connessione con lui e ti aiuta in questo momento tu stai ricevendo un aiuto quindi non adirarlo cambia prospettiva non adirarti cambia prospettiva sì 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 effettivamente infatti le informazioni ci stanno perché anche a me erano arrivate queste percezioni un po' come il discorso che tu dicevi autostima identità poi io cerco sempre la conferma di chi magari non è posto a fare un fit di me diciamo così certo infatti è importante questa comunicazione che abbiamo oggi perché tu ricevi le conferme del tuo sentire quindi intanto hai la conferma che tu senti la tua anima e ci comunichi che è una grande cosa e poi ti dà anche quel coraggio perché io come sai nel nostro colloquio non è che parliamo di grande che quindi non sapevo queste cose quindi hai di nuovo un'altra conferma in più di quello che tu percepisci come realtà perché se vengono dette anche da me quindi è reale quello che senti quindi ancora più fiducia in te stessa infatti quello che mi serve infatti quando parli di identità è quello proprio perché tante cose sono accadute io mi ero totalmente persa solo negli ultimi anni che sto ritrovando la mia identità diciamo quando decido di separarmi è stato un recupero da parte mia di riprenderti sui due spazi la tua respirazione le tue insomma fisionomie le memorie di te stessa brava sì perfetto questo per quello aspetto fatto fatto allora altra cosa inerente a sempre una questione casa se riesci a capire se realmente sarà lui che la comprerà sì sì è lui che la comprerà sì però lui adesso un attimo sta cercando di sistemare delle cose sì mi dicevi perché lui mi ha sempre detto di no lui mi ha sempre detto no io non ci faccio il mio momento a comprarla proprio un po' rissoso diciamo come si chiama il soggetto maschile per cui io dico vabbè infatti l'ultima volta ho detto ok cos'è che vuoi tu per comprare la mia quota perché io fin dai due anni che le sto dicendo che la compri lui perché questa è una casa che abbiamo comprato la terra e noi l'abbiamo costruita facendo feng shui cioè tanto tanto e non è una casa già fatta no no l'abbiamo fatta in base a noi però ormai a me non appartiene più questa cioè io lo sento che a me questo luogo anche non mi appartiene più infatti l'altra domanda era se riuscivo ad andare ad abitare al mare io adesso abito in un posto di montagna sempre vissuto in posti di montagna fin da ragazzino ho sempre desiderato andare ad abitare al mare e ultimamente quando io sono al mare io sto molto bene e ho tante idee tanto e voglio sapere questa cosa qua sì ci riuscirai perché comunque io ti vedo che è un grande cambiamento diciamo dopo questo lavoro di ristrutturazione è come dire no mi sto cuciando il nuovo vestito ad osso da poter fare sai quando devo andare ad una festa ci vado con quel vestito lì sì tu ti sposti nel momento in cui avrai preso tutti i tuoi le tue forze di nuovo il tuo coraggio ricordato a chi sei tu ti sposterai perché non non apparterrà più neanche questo posto cui sei alla nuova Letizia capisci ci vai e quindi ti vedo spostarti ok ci riesci per cui tutto è lavoro l'altra cosa sempre inerente al discorso del lavoro proprio una settimana fa è arrivata un'intuizione e vorrei sapere se questa intuizione di portare le persone dall'Italia a Fuerteventura per far dividere questo uno la pittura in acqua perché ho iniziato a dipingere sott'acqua e per me è stato un grande wow ecco sì e portare le persone puoi fare delle esperienze in mezzo alla natura come crescita personale per cui mare deserto montagna però ecco portarli a Fuerteventura come mai questa isola così lontana cioè io ho risentito io ci vado molto spesso infatti il mio sogno è di andare ad abitare là io l'ho sentita molto quest'isola infatti in due anni sono andata sei volte io ho girato molto il mondo non sono mai tornata a parte le Maldive ma vabbè due volte però stanno in isole diverse ben o male non sono mai ritornata nello stesso posto invece che in questo posto risento proprio un richiamo fortissimo cioè mi manca io piango quando vengo via quando vieni via sì è una buona cosa comunque Letizia sì e tra l'altro quello che ti dicevo prima che la tua anima mi ha comunicato non staresti nell'isolamento che non ti appartiene come esperienza tra l'altro tu adesso con questa consapevolezza che hai stare insieme a te e fare questi percorsi è già un beneficio per gli altri standoti vicino perché tu sei in quella vibrazione di benessere e di far stare bene gli altri sì ci riesci è una buona cosa e avrai successo ok perché infatti rientro allora nelle cose che mi dicevi tu qui la canalizzazione cioè nel senso portare le persone la naturopatia che poi è il mondo del benessere coach poi la pittura e anche poi stare a contatto con la gente con la gente brava infatti te l'ho detto è una dote essere camaleontica non la devi abbandonare però la devi abbracciare nella completezza perché nell'isolamento tu è come se creassi un cortocircuito e quindi non arrivano i denari no? che è poi la gratificazione a un certo livello ok c'è qualche altra cosa che mi vuole comunicare sempre inerente alla mia realizzazione proprio lavorativa beh quello che lei mi dice è ora di agire ecco tutto questo che è stato vedi tu guardavi in aria no? è stato quindi pensato mettiamolo così no? i pensieri nel fumetto viene sempre in alto questa questa vignetta no? quindi il fatto che tu hai pensato ormai è ora di abbassare questa testa e metterla in orizzontale e aprire no? queste immagini e camminarci dentro non essere più nella stagnazione cioè è ora di andare questo mi dice lei quindi tu adesso prendilo ed elabora come vuoi come senti anche perché sull'azione proprio sull'azione negli ultimi anni io ho avuto grossi problemi anche fisici diciamo su una gamba per esempio io sono stata una molto sportiva ma ho dovuto fermarmi neanche andare a fare le camminate che riuscivo prendere la gamba infatti dico cosa ne sta impedendo di agire questo un pochettino un po' in tutto quello che ho fatto anche fino adesso ho fatto magari dei piccoli passi ma niente di che guarda lo stato emozionale fondamentalmente quello che tu hai vissuto con questo tuo ex marito è come se in un certo senso ti ha un po' modificato la tua essenza no? quindi ciò che ti ha impedito e anche vedi questa la gamba la deambulazione il camminare è di riflesso a come si dice è come se fosse addormentata questa parte creativa di te no? tu mi hai detto sei molto creativa ma tu devi essere creativa nel tutto nel fare nel giro viaggiare è essere sempre in movimento questo matrimonio ti ha non perché non viaggiavi magari con lui magari viaggiavi anche però fondamentalmente è come se avesse addormentato una parte di te e quindi questa parte addormentata di te te l'ha detto il fisico insomma ti fa male una gamba quindi devi muoverla no? come metterti in testa riaddormentare questa parte atrofizzata ecco la parola giusta credere in te stessa credere in te stessa perché è stato in due persone questo uomo che non è malvagio non è cattivo anche se insomma un po' di un certo tono come quando ti parla però ha anestetizzato questa parte di te tagliendoti un po' della tua autostima che già era carente capito? quindi adesso che hai fatto questa decisione di separarti quindi di allontanarti da ciò che ti intossicava comprendi che questo tempo sabbatico che ti sei preso è stato è servito ed è bastato per ripulirti da questa tossicità e quindi non è più niente atrofizzato tutto risvegliato e quindi adesso è ora di andare questo metti lo scritto nei posti che da tutte le parti della tua casa sì 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 ma poi due tre punti me ne sono presi e invece l'altra parte che perché questo qua di mettermi in azione oltre a questo ci sono altre strade cioè per quanto riguarda il lavoro perché effettivamente lo so anch'io che più sto in movimento più il lavoro è in movimento più rendo meglio mettiamola così sì è vero oltre a questo oltre a questo questa idea che hai avuto che è un progetto comunque dove vedi coinvolto anche più persone così se oltre a questo c'è altro beh guarda fondamentalmente quell'altro l'hai già vissuto quell'altro che era un po' nella materia un po' nello staticismo nell'equilibrio nel tutto giorno uguale all'altro quindi quell'altro lo conosci bene adesso c'è questo cioè questo è dove sei tu dove sei venuto a fare questa esperienza nella libertà dell'essere nel portare non c'è tanto altro dove tu potrai stare bene per esempio se ti dovesse capitare domani che vinci il concorso alle poste lo potrai fare come altro però è come un morire giorno dopo giorno dentro quell'ufficio fino al tuo pensionamento quindi tutto quell'altro che può capitarti che ti mette e ti lascia in questo dinamicismo e essere camaleontica come sei puoi accettarlo tutto quello che è statico ed è entra in una sorta di routine non ti appartiene quindi inizia a demolire anche un pochino questa parte razionale che non è tutta farina del tuo sacco ma tu vieni anche da dei genitori rigidi io sono la peccola nera della famiglia ancora oggi vedo che hai dovuto insomma un po' rientrare in questo quadretto mi domandavo questo matrimonio se hai cercato di entrare in questo quadretto delle aspettative che gli altri avevano di te quindi di entrare sposarti fare famiglia insomma e tutto il resto ma non vestivi i tuoi panni giusto infatti è stato quello che poi infatti stavo male e io non ero felice per cui c'è qualcosa che non funziona e ho ribaltato tutto sì sì quello è stato ecco l'altra cosa che invece mi viene cosa posso fare per migliorare proprio le canalizzazioni cioè allora io penso di aver sempre visto per esempio soprattutto di notte mi capita soprattutto con delle persone alle quali sono particolarmente connessa anche di vedere dei pezzi di futuro però lo vedo per gli altri non lo riesco mai a vedere per me per cui cosa posso fare o cosa mi sta ancora limitando su questo perché credo che per me è proprio importante proprio per la realizzazione di quello che vorrei fare in futuro cioè proprio legata al movimento al libro al viaggi a tutto quello che può essere anche il bene la guarigione perché comunque è anche parte guarda fondamentalmente smettere di domandare faccio bene o faccio male no la visione che tu hai anche corretta del futuro o altrui è comunque la prospettiva di quello che loro proiettano e progettano proiettano per noi che li vediamo e progettano per il loro futuro e quindi tu hai una facile identificazione o lettura vogliamo chiamare così ma quando tu interagisci nel tuo futuro in quello che stai cercando di fare con desiderio di improntare ci devi essere dentro cioè ci devi vedere dentro quindi per esempio cosa devo fare è sempre quella la domanda scrivilo cosa devi fare mi arriva l'idea di fare il libro scrivilo e metterti dentro a queste intuizioni le intuizioni sono immagini che ti arrivano intuizioni o parole quindi che cosa devi fare ti arriva il tuo futuro perché quando ti è arrivata la proiezione e l'informazione del libro se il libro non l'hai scritto nel presente e non l'hai scritto nel passato ti sta arrivando il tuo futuro giusto? sì ma anche perché proprio c'è stata una donna che si è avvicinata a me e mi ha detto questo sarà il titolo e io non lo ricordo ma ti arriverà se tu ci metti questo ti arriva quindi quando ti arriva l'intuizione è così come quando uno dice voglio fare il pilota di aerei da grandi lui ha già visto il suo futuro inizierà a studiare a creare un po' tutti abbiamo queste capacità ma se noi ci facciamo interferire dalla nostra mente quindi razionalizziamo non sentiamo più di pancia quindi diventiamo sordi animicamente e facciamo portare avanti la nostra mente allora lì ci depistiamo il nostro percorso devi sentire quello che ti arriva dal tuo futuro quindi in quello che sono le tue intuizioni di pancia e allora quella è la lettura del tuo futuro e poi inizia a farlo perché lo fai avverare noi siamo gli artefici del nostro destino sì sì ma io io su queste frate qua penso essere partita proprio da questo cioè che siamo noi che creiamo la nostra realtà siamo veramente noi e allora io per questo ultimamente mi sono anche posta tante volte in questi ultimi due anni in particolar modo che cosa mi impediva proprio di portare realizzazioni cioè ho capito cosa mi dici ascolta bene guarda Letizia c'è proprio la risposta della tua anima la pazienza perché nel momento in cui noi sviluppiamo con le intuizioni che ci arrivano e quindi che arrivano anche a te dei particolari situazioni azioni o movimenti o progetti dobbiamo sempre pensare che tutto l'universo si muove forse a un tempo un pochino più lento dei nostri pensieri forse lo possiamo fare ce l'hanno fatto dimenticare facciamo un esempio per portarti un paragone affinché tu possa comprendere ciò che ti impedisce nulla ti impedisce è solo che tutto ha un tempo è un luogo è un tempo è più importante che il luogo perché ciò che tu intuisci e quindi i tuoi programmi si avverino e vengano manifesti nel tuo quotidiano se noi avessimo la capacità ti dicevo tra parentesi forse ce l'abbiamo ma ce l'hanno fatta dimenticare di pensare a una torta come la vogliamo fare e averla nel nostro palmo in automatico con il nostro pensiero sarebbe stato magnifico giusto quindi invece tu quando pensi a una torta con le fragole cosa dovrai fare hai voglia di mangiarla andare in cucina e prepararla tempo di cottura 30 minuti quindi quando tu hai un progetto che si deve sviluppare vorrei avere quello vorrei fare quello sento questo devi far sì che aspettare il tempo che l'universo dare il tempo all'universo di creare tutta la situazione perché ciò si manifesti quindi la pazienza ok si perivate io ho già due anni abbondanti che voglio andare a abitare là a Fortaventura e vedo che la cosa non si manifesta per cui dico o non è la cosa giusta per me no perché sono anche dell'idea che quando è una cosa destinata a te cioè tu sei dentro a quello che ti appartiene cioè tutto fluisce tutto corre anche rapidamente no perché in passato mi è successo questa cosa e questa cosa io non la vedo ultimamente quando non succede si ho capito benissimo a parte che guarda credimi ultimamente abbiamo dovuto lottare con questo magnetismo di energia di bassa vibrazione che il covid ci ha un po' messo tutto sotto sopra ha bloccato un po' questo fluido tempo dove tutto si manifestava in quel modo come dicevi tu però adesso noi dobbiamo inserire più forza più energia ma c'è un'altra caratteristica che non ci fa accadere hai detto bene forse se non si realizza non è non fa parte del nostro progetto quindi del nostro percorso c'è un'altra cosa sempre in correlazione con l'universo che ci ascolta e con tutte le forze del cosmiche che ci permettono di realizzare il nostro nostro destino la focalizzazione c'è se noi un giorno diciamo vorrei andare al mare un giorno in montagna un giorno invece in una prateria e poi al lago allora che cosa facciamo creiamo queste distoniche influenze energetiche quando invece noi ci focalizziamo in un unico pensiero chiaro e lo progettiamo è sempre uno allora diamo il tempo di sistemarlo se no l'universo costruisce immaginati che con dei mattoncini lego voglio un castello allora lui inizia a prepararti il costello prepararti la porta dove tu puoi entrare dentro questo castello ma no la casa al lago quindi via per dire tutti i mattoncini questo è un altro impedimento che noi ci auto infliggiamo in noi stessi ok infatti questa era una cosa che mi avevi detto quando avevi fatto la diretta che io ho una grande capacità di creare però poi a un certo punto come se prendo ho la gomma caccialo tutto e butto via tutto ecco e questo è e questo ci fa stare nella immobilità e non è che non ci appartiene cioè dobbiamo essere sentirli proprio di cuore no proprio come quando ami una persona con l'amore noi quando noi tu ami questa isola viene via che ci piange quindi senti che ti appartieni e allora è quello il tuo luogo il tuo posto il tuo tempo chiaro molto chiaro molto chiaro chiarissimo diciamo che hai risposto vedete le mie domande erano molto incentrate su quelle ok per cui quella del della casa te l'ho chiesta questo di Forteventura te l'ho chiesto sempre legato a quello e poi ecco io ho un nuovo compagno e a questo punto dovrei sapere se è la diciamo lui condivide molte cose con me io ho appunto questo grande desiderio di andare a vita Forteventura lui un pochino meno per cui non so se è innanzitutto l'anima gemella anche se credo di sì perché c'è proprio un forte richiamo a questo perché questa cosa qua guarda lui è molto statico in confronto a quello che tu sei come dinamismo insomma come non sei radicata lui è più radicato diciamo che comunque per te ha un certo fascino perché è un po' il tuo opposto sai i lati opposti si attirano un po' quindi anche con il tuo ex marito un po' affascinata da questa stabilità che noi chiamiamo un po' staticità perché la stabilità poi in un certo momento ti fa diventare statico la tua anima gemella siete molto affini vi riconoscete siete molto legati cuore e pancia se vogliamo dire io lo vedo questo legame però lui mi piace molto come sei non vorrebbe cambiarti ma inconsciamente senti come come vedo come mi è arrivata l'immagine di te di lui prima che mentre mi stavi raccontando lui lì fermo e tu che sei un palloncino sei quei palloncini da bambino quindi è molto felice sai quando tu ti compri un palloncino un bambino è molto felice lo fa stare bene è allegro però poi il bambino come sai non vuole più che sta lì non lo tira giù questo palloncino e lo tiene e ci gioca inizia a scriverci inizia un po' a personalizzarlo comunque un qualche cosa un gioco che arriva a volerlo possedere perché questa lontananza quindi attenzione perché se c'è in progetto vedi l'universo che non ti legge bene se c'è in progetto questo diciamo lavoro importante da fare quindi di muoverti lui ti tratterrà ecco nel farlo sono scelte di vita anima gemella sì te lo confermo però ognuno viene da un percorso di vita suo a meno che lui non possa proprio per per l'attrazione che prova in te quindi il desiderio di averti per sempre tirare sull'ancora cosa fa come lavoro? lui fa il farmacista però in realtà io l'ho conosciuto proprio nel mio fondo diciamo artistico mettiamola così diciamo che ha fatto un percorso di arte terapia e la nostra arte terapeuta anche lui infatti studia per diventare arte terapeuta lui anche lui è un coach cioè è un farmacista un po' alternativo diciamo la farmacia la tiene come come stabilità perché gli permette per il suo regime economico però anche lui quindi non è detto che se vede compie concretizzare concretizzarsi il tuo sogno lui non possa togliere l'ancora quindi non ecco non diciamo non diamogli delle speranze a questo amore che sta nascendo perché sì è una bellissima anima ok avete visto il matrimonio com'è andato perché poi ho saputo la relazione carmica che avevo con lui io l'ho sistemata e allora ho detto patenata voglio crearmi altro carmo non ne ho più voglia fondamentalmente lui per quanto comunque attratto ti dico come un bambino piacerebbe averti tutta per sé ma non in una possessione non è è oscuro ecco non è oscuro è tutto nella dolcezza nella tranquillità però ecco fondamentalmente lui ti lascia libera di decidere non è uno di quelli che cerca non ti entra nella mente per cercare di plagiarti è nel cuore nella condivisione anche lui di stare sereno con una coppia soli una donna che non mente non so forse viene da qualche delusione anche lui ha voglia ecco quindi ha voglia di qualche cosa di puro gli piace la purezza che c'è in te quindi sì perché io quello che dico è quello punto basta cioè io anzi certe volte dovrei stare un po' più zitta perché insomma beh quello che hai nel cuore è nella bocca però è sempre una dote comunque magari con il tempo inizierai a limare no? ciò che tu vuoi dire dal cuore quindi non a trattenere ma a limare un po' quello che vorrei dire perché magari qualche volta le persone ci rimangono male ma ricordati che quando si parla con il cuore in mano si sta insegnando quindi questo affinalo come tua caratteristica perché è molto bello ok ok l'altra cosa invece che ti chiedo io ho due figli ho un figlio maschio di 13 anni e una bima di 10 con quelli di 13 anni c'è molto contrasto abbastanza forte da penso da tanto cosa nasconde questa cosa di forte contrasto cioè per farti capire soprattutto dopo la separazione l'ho iniziato ad avere anche atteggiamenti abbastanza eruenti aggressivi nei miei confronti sì aggressivi e sembra quasi che dietro ci sia una lezione che dobbiamo apprendere o alcune informazioni mi sono arrivate che comunque anche con lui è una relazione carica con mio figlio che in questa vita abbiamo l'opportunità di sistemarla e però io non riesco a vedere cosa per riportare serenità tra me e lui perché comunque lui guarda questo c'è tradimento lui si sente tradito dai tuoi comportamenti perché comunque questo anima questo bambino che adesso ha 13 anni non so quanti anni avesse quando tu ti sei divisa però è come se tre anni fa tre anni fa quindi comunque una decina d'anni ma era già sveglio non era un bambino che dormiva e quindi lui si è sentito un po' come tradito da questa separazione come se tutti e due papà e mamma quindi un po' arrabbiato anche nel contesto con papà è come se lo avesse tenuto all'oscuro di quello che invece voi stavate rimuginando com'è accaduta la vostra separazione litigavate o è stata una decisione a tavolino no no litigavamo anche di brutto cioè anche davanti a loro proprio e infatti però magari loro siamo previsti litigare per diversi anni però poi per esempio con il lockdown cioè siamo arrivati a risentare veramente quasi la follia per me andava di fuori di ogni principio non c'era più quella possibilità di riallacciare e io veramente lui inizia a toccare dei tasti nei confronti delle scuole dei bambini e io gli ho detto beh boh basta vedevo proprio il muro ormai per creare un rapporto armonioso in casa perché poi era diventato una sorta di stare sempre allerta discussioni continue andavamo bene niente c'è il caos altro che il caos io adesso sono serena tranquilla rispetto a prima per cui lui comunque ci ha sempre visto ovviamente la decisione mio ex marito ha portato a me attraverso beh io ho scoperto poi dopo un lavoro che ho fatto di manipolazione e narcisismo cioè lui è narcisa è narcisista perché io non me ne sono neanche accorta era abbastanza scura di queste cose e diciamo lui mi ha portato per due anni a far sì che io mi separassi cioè che così ha girato un po' la frittata ha fatto il mobbing out nelle fabbriche per i titolari con i lavoratori fanno questo ti portano all'estremo affinché tu te ne vada invece che loro a licenziarti ha fatto un po' questo meccanismo ha attivato questo meccanismo c'è rabbia c'è rabbia come di un tradimento probabilmente il fatto di crescere con questi litigi è cresciuto con un concetto che questo era che tutto poteva andare non si sarebbe mai immaginato di non trovarsi più in questa stabilità perché lui comunque lì stava nelle sue cose ma fondamentalmente c'è un amore grande di questo bambino verso di te che cosa accade oltre al fatto di sentirsi tradito nel contesto di non averlo messo al corrente di quello che erano che pensi adesso mi ci lasciamo io papà io vado via sarà così quindi non c'è stata un'argomentazione intavolata in questo senso c'è una forte gelosia con la sorella e come sono i rapporti tra di loro? è molto conflittuale anche con loro litigano lui è molto rispettoso sì io questa gelosia l'ho vista è palesissima è palese proprio poi la sorella ha un carattere lei viene lì si fa fare le coccole cioè se vuole la coccola lei viene lì te la dice mamma fai la coccola mamma viene lì ti è bene invece lui no lui sta un po' come il suo papà sul suo muro e attua poi atteggiamenti sbagliati perché devo sempre se vuoi trarre l'attenzione non in quella modalità prova cioè ho provato tante volte ma sembra quasi che c'è proprio un blocco tra noi due da da snodare proprio infatti è questo un po' quali tipo di blocco c'è tra noi due per guarda perché sento che anche è un'anima questa cosa dimmi sento che questa cosa qua è l'altro passo appunto per vendere la casa per andare io libera ecco questo adesso dove vivono loro comunque con te con me sì sì allora diciamo che suo papà per quello posso dire che loro ci vanno quando vogliono cioè non è che siamo chi vive in quella casa adesso io e i bambini però loro presente lui è stato anche due settimane a casa di suo papà per esempio ultimamente aveva avuto una lite fortissima e tu te ne vado a casa di tuo papà però lui adesso vive qua comunque dorme qua ecco sì allora guarda vi siete incontrati come anime ed è un'anima che in un certo senso ti ha amato e lì hai rinnegato il suo amore quindi lui le porta con sé da una vecchia storia di vita questa rabbia nel tuo nel tuo contesto ma dietro a questa rabbia c'è il desiderare di compiacerti quindi siccome sei stata con lui e vieni via comunque da diciamo un'intossicazione di aggressività anche tu hai preso quella forma sai prima ti dicevo tuo marito ti ha intorpedito un po' di te stessa però ti ha anche interferito ci fondiamo un po' con il rapporto familiare diventiamo un po' l'uno dell'altro e quindi tu adesso reagisci con una sorta di rabbia invece lui vorrebbe essere amato e complice c'è un alleato e quindi arrabbiato perché non è stato messo al corrente dei tuoi pensieri di andare via dei tuoi progetti l'hai fatto e sei andata via e lì hai portati via con te quindi come ma a me non mi chiedi cosa voglio fare lui ha questo concetto lo capisci hai capito cosa dice lui ecco adesso noi però glielo diciamo tu lo prenderai per mano gli passi tutte le tue informazioni in più dalla storia di vita regressa pregressa che lui era innamorato e tu l'hai rifiutato lui vorrebbe sentirsi amato quindi vorrebbe avere l'altra chance infatti è venuto come figlio e lo ami quindi cambiando proprio la modalità di manifestarti con lui con quella dolcezza che invidia che ha la sorella ma la sorella è femmina fondamentalmente lui vorrebbe rivederti così dolce nei suoi confronti la tua femminilità cerca la dolcezza la femminilità e la complicità adesso lui comunque ti sa da sola ti voglia difendere vuole essere un po' capo famiglia no? in questa nuova perché non c'è più papà quindi come se via una pedina ne è arrivata un'altra basterebbe semplicemente addolcire il tuo il tuo modo di approccio con lui dandogli questa imprint di l'importanza che è per te e l'importanza che ha lui in questo momento per questa situazione che sta vivendo tra l'altro Letizia sei una mamma quindi le mamme non si possono insegnare né o nulla è un momento così particolare perché i 13 e i 14 anni lottano con i loro ormoni quindi non è solamente che c'è la conteccia anche con questo corpo che gli si sta trasformando crescendo la barba la voce è cambiata da poco fra un po' anche la sua sessualità esploderà in un modo pazzesco quindi c'è un c'è una tempesta ormonale lui in questo momento la gratificazione di quello che è lui e la dolcezza che tu dimostri per lui lo farà lo tempra lo metti proprio in un momento carico di autostima di se stesso ok quindi cerca per quanto comunque e cancella piano piano come a spazzolarti la polvere di dosso di togliere quello che ti ha inconsapevolmente inconsciamente insegnato dagli atteggiamenti che hai avuto con il tuo ex marito tu non sei così non sei aggressiva sei una farfalla sei solare sei leggiadra leggera e gioiosa ritorna con i tuoi figli ad essere quello che sei ok si si infatti è quello che sto cercando di fare perché me ne sono accorta perché io non sono una che per esempio cerca la guerra assolutamente anzi mi piace parlare mi piace mai urlare invece ci sono state delle cose sempre un appunto molto sorridente invece anche il viso mi si era proprio rattristato ci credo ci credo ci credo perché ti modifica no? poi comunque anche solo le paure magari quando un uomo diventa aggressivo sai noi ci impauriamo perché non sappiamo leggere nelle menti che cosa sono e comunque siamo sempre in difese no? in confronto a questo uomo anche solo con la voce più grossa di noi quindi questa paura ci irrigidisce l'importanza tu dovrai magari dirglielo anche così mentre stai lavando i bicchieri fortuna che ci sei tu che la mamma mi dai sostegno no? l'importanza lui sta crescendo un uomo e dovrà essere un uomo forte che dovrà proteggere sua moglie senza essere questa aggressività avere questa aggressività che anche lui è come un impolverato da quello che ha vissuto in famiglia quindi la dolcezza la dolcezza che tu devi avere con lui non è perché lo facciamo crescere femmina ma perché ti dovrà riconoscere nella donna che sarà la sua compagna articolato e complesso ma è questo momento è cruciale infatti di solito si prende il compagno barra compagna brava brava a quello che si può in casa certo li riconosciamo li riconosciamo perché nella nostra DNA c'è quello che loro ci hanno inserito nelle nostre memorie quindi riconosciamo nei tratti del nostro compagno ciò che abbiamo conosciuto in casa e tu sarai l'esempio della donna che lui dovrà avere che poi sarà tua nuora quindi fattela un po' a tua immagine e somiglianza così ci andrei d'accordo sì 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 non più che altro per il suo bene perché è quello che ho sempre cercato di fare proprio sì 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 sia lui che la piccola però con la mia figlia di lei la piccola è diversa sì la piccola proprio adesso ancora è un po' di gomma tutto gli rimbalza le rimbalza non è così concentrata e poi è un'anima molto forte è forte anche tuo figlio energeticamente Luca però lui in relazione con te che lo hai rifiutato si sente sempre un po' al di sotto quindi vuole crescere sopra di te però non lo fa ce l'ha dentro adesso facciamo così mettiamoci proprio al lavoro con Luca e con tua figlia prendi le loro mani una mano la dai a Luca una mano la dai alla piccolina e gli trasmetti tutte le tue informazioni cioè di chi sei realmente come sei realmente che ti stai ristrutturando che li ami all'infinito e che senza di loro in questo momento non avresti poi superato così bene questo momento che hai deciso di cambiamento di vita e che li porterai proprio con te a Luna Park in questa isola meravigliosa dove loro veramente potranno vivere senza condizionamenti di sorta culturali perché quell'isola non ha radici culturali così pazzeschi come l'Italia e potranno crescere con la libertà proprio di essere se stessi sia l'uno che l'altro quindi li ringrazio e li passi sempre queste bellissime informazioni di te sei d'accordo cara? Sì Ecco quindi grazie di esserci a tutte e due bene Caspita quanto abbiamo lavorato comunque è tutto già dentro di te hai elaborato ed elabori con una lucidità e con una chiarezza molto molto decisa ed importante e sicura quindi veritiera non dubitare di ciò che stai diventando di quello che ti costruirai perché lo stai facendo proprio ad opera d'arte come i tuoi quadri Ok sì alcune informazioni mi sono proprio giunte anche in passato di cose intuizioni che comunque ho un messaggio molto importante da riportare al mondo e io questa cosa l'ho vissuta inizialmente con molto spavento poi con molto peso adesso sto cercando di capire che cosa perché credo che sia proprio qualcosa di importante ecco perché la canalizzazione cioè a me è arrivato tanto tempo fa questa cosa e infatti mi piacerebbe sapere che tipo di messaggio è perché non è una cosa che riguarda me cioè solo me ma riguarda proprio anche una sorta di metodo di per far stare bene gli altri cioè ho saputo inconsciamente lo sapevo già quello che ero in grado di fare poi a un certo punto ho dimenticato poi appunto con la scuola di naturopatia i corsi di numerologia tante altre cose sono iniziati a venire su per cui mi piacerebbe sapere che cos'è in modo tale che io posso iniziare so che qual è l'obiettivo a andare lì perché cioè non so se è una cosa della mente questo che ti chiedo o se è veramente è vera Letizia tu hai e lo raggiungerai come tuo modus operandi quindi nel dialogare poi magari forse lo farai anche con i messaggi che ti arriveranno con qualcosa di scritto di riprogrammare la parte razionale delle persone nel momento in cui tu o le porterai in vacanza o inizierai a interagire con loro no? questo parlare con il cuore in mano quindi insegnamento è come se tu avessi la capacità con delicatezza di sgretolare la parte razionale che sono le culture le religioni non perché insomma di come vengono no? come ci costringono ad entrare dentro a un quadretto tu riesci con magnetismo chiamiamolo così con il tuo modo di fare e con quello che tu poi comunque avrai e prenderai quasi come uno scritto quindi il tuo programma chiamiamolo così a demolire la programmazione mentale quando riuscirai a sgretolare con il tuo fare il tuo sistema la pittura l'isola e tutto riprogrammerai avrai anche la capacità di riprogrammarla più malleabile no? più palpabile affinché in quella razionalità ricostruita più morbida più palpabile più fluibile anima si possa manifestare quindi è come se quando arrivano qualcuno da te li trovi circoscritti in questo razionale come chiusa l'anima dentro una scatola tu vai lì sai quando fai il quadro quello lì di cubri quello lì che fa i colori tu magicamente ripristini tutti i loro lati e anima si manifesta questo è il tuo obiettivo lo sai fare lo puoi fare ti arriverà chiaro come lo potrai fare quindi ti metterai il tuo modus operandi e le persone trarranno beneficio proprio da questa situazione le farai rinascere sì sì so questa cosa ma un po' lo so per via della numerologia che ho i numeri degli iniziati cioè sì degli iniziati che c'è nel senso di portare le persone a iniziare una nuova non so un nuovo lavoro una nuova vita un nuovo modo di pensare io perché poi nel tempo ho notato cosa mi chiedono le persone quando vengono da me e quello che succede no cioè certo e per cui ho notato questa cosa per cui cioè iniziazione intesa come un nuovo inizio brava io ti ho detto una rinascita quindi è proprio te la confermo anche quella ok brava era un po' tredici adesso insieme alla tua autostima che è questo abito nuovo che tu stai mettendo per prepararti a questo nuovo luogo nuova te stessa mettici anche la fede il credere in ciò che sei e in ciò che fai eh sì perché questa per me è sempre stata il mio tallone d'Achille per quello che cerco sempre conferma e tanto a volte dico non so come mai mi è successo questo ma guarda fondamentalmente le conferme ce l'hai con l'allenamento nel momento in cui tu ti farai ti metterai in gioco e quindi creerai le gratificazioni te lo dice una volta grazie mi hai fatto stare bene grazie mi hai fatto stare bene sai come sono cambiata da te queste gratificazioni emozionali che sono necessarie per il tuo percorso di vita e per il percorso nostro di crescita vedrai che ti faranno piano piano silenziare questi dubbi e credere di più in te stessa è come quando uno va in palestra magro magro va in palestra vuole fare i muscoli mentre fa questi allenamenti ci riuscirò vede passare quello muscoloso a diventare come quello e tu se non lo fai non lo saprai mai capito quindi potrai domandarti per tutto il tempo che tu fai allenamento smetterai quando guardandoti allo specchio ti vedi che i tuoi muscoletti sono cresciuti quindi devi iniziare a fare a tendere le gratificazioni e poi dopo un po' di tempo uscire dalla palestra con i muscoli addominali a tartaruga ma dopo l'averci lavorato ok perfetto è chiaro questo concetto molto chiaro soprattutto questa ottima parte è chiarissima quindi forza forza e coraggio mi viene di dirti no quindi è ora di andare è ora proprio di mettersi mettere in movimento questo bellissimo motore che è la tua anima pieno di luce pieno di empatia di solarità di gioia questo palloncino che vola e porta gioia a chi lo tiene in mano ok bene cara abbiamo risposto a tutte le tue domande sì tantissime abbiamo fatto un ottimo lavoro perché è già tutto hai già tutto diciamo gli strumenti li hai tutti in mano adesso come una brava pasticcera non devi far altro che metterti in cucina e preparare proprio la tua torta meravigliosa e buona che sei tu proprio e donarti perché questa condivisione è portarti agli altri va bene caro sì cara va bene allora guarda in queste bellissime sfere energetiche dove siamo stati protetti per tutto il tempo facciamo scendere una bellissima doccia pranica universale positiva che mantenga in essere tutte le informazioni che sono arrivate oggi e che ci dia proprio la carica energetica vibrazionale di metterci a manifestare insieme all'universo alle forze cosmiche il nostro futuro il tuo futuro quindi con questa bellissima immagine di attivazione di fermento e di una bellissima energia positiva io ti lascio rigenerarti mi distacco da tutte e da tutti e torno qua al tempo presente dammi qualche secondo che riapro gli occhi e ci salutiamo bellissima allora allora ti ho detto tutto oggi fatti tanti complimenti il palloncino la torta ti ricorderai adesso quando vedi un palloncino però se mi è arrivato di comunicarti queste cose in questa maniera vuol dire che erano facilmente comprensibili per te e poi allegramente anche quindi che dirti mi racconterai mi scriverai guarda è tutto già nell'aria perché tutto ciò che ti è stato detto è come se già fosse costruito nel tuo pensiero adesso ci sono dei dettagli da mettere no? proprio rifinitura e poi sarai nel tuo processo di sperimentazione futura va bene cara va bene grazie tanto ti do un bacio grazie a te senti ce l'ho la tua email no? scrivimila no secondo me no scrivila sì te la scrivo sotto te la scrivo subito scrivila adesso io magari domani mattina quando tu dormi te la invio ti svegli che ce l'hai nell'email me la fai pubblicare? sì sì va bene va bene va bene allora ti copri ti copro il viso se vuoi e così stai serena uguale? sì meglio va bene un bacio cara ciao grazie anche a te ciao buona giornata ciao